Costa 10 centesimi. In questo video parlo di aree di sosta in autostrada. In autostrada l'area di servizio fa parte del viaggio, ma la sosta può trasformarsi in una sosta costosa con panini, bevande e tanto altra ancora. Esiste però anche la possibilità di potersi fermare nelle aree di parcheggio. Sono andato a vederne una. In Italia di aree di parcheggio e di sosta diffuse sulla rete autostradale non ce ne sono tante. E questa è una delle poche. Si trova sull'autostrada del Sole a 1 dopo Modena Sud in direzione Bologna. Queste sono aree di sosta e di parcheggio utilizzate soprattutto dagli autotrasportatori. Ho notato che queste aree di servizio sono molto utilizzate dai viaggiatori che arrivano dall'estero. Per i viaggiatori che si fermano qui non è possibile usufruire di nessun'area attrezzata per poter fare per esempio un picnic. Famiglie e automobilisti rimangono intorno alle vetture sotto il sole di luglio. C'è anche chi trova riparo all'ombra di un albero. In quest'area di parcheggio sono a disposizione solo i bagni pubblici, in questo caso a pagamento. Sono due toilette. Costa 10 centesimi. Ecco, questa toilette si presenta pulita. C'è la carta igienica. Non va l'acqua e non va neanche l'asciugatore. Provo con quest'altra toilette. Ecco, le monete tornano indietro. Ecco, mi ha restituito la moneta e si è aperta lo stesso. Quest'altra toilette si presenta sempre pulita, in buone condizioni. Non c'è la carta. In questo caso l'acqua funziona. Funziona anche l'asciugatore per le mani. Qui c'è una fontana che però non è attiva. E' attiva.